Tu che lavoro fai? L'affitto casa è per il turismo, faccio tutto per il turismo. La chitarra sente, la chitarra non mente. Andiamo. È arrivato il momento in cui la città si sta ripopolando di turisti. Abbiamo i giorni contati. Se a più di metà di Venezia è vuota, noi, come persone che abbiamo voglia di vivere le finanziarie di uscire da questa città. Il punto è di decidere di rimanere a Venezia e cerchere uno scopo. Se tutti avessimo uno scopo, anche la città avrebbe uno scopo. Non è casuale questo posto. Soprattutto per chi viene dal mare, come me. È arrivare a casa in Italia. Il mondo deve essere quello. Sentirsi libero. Soprattutto per noi, come me. Grazie a tutti.